buongiorno e benvenuti in un nuovo video questo video è una specie di video chiacchiere in quanto vi faccio un aggiornamento perché ho fatto le analisi annuali molti si erano sensibilizzati appunto al mio racconto e per l'appunto ho fatto le mie solite analisi tipiche adatte appunto ai problemi ormonali tiroidite sempre attiva non gli anticorpi comunque sono sempre un po altini tsh ancora nella norma che appunto insomma sta a dire che ancora un po la tiroide mi funziona però questo spiega appunto il sovrappeso il colesterolo un po più altino non di tantissimo e infatti ho levato tutti i formaggi affettati che comunque avevo ricominciato più o meno ogni tanto a mangiare il pane assolutamente l'ho levato a cena non lo mangio più mangio riso pranzo riso integrale di vari generi riso rosso perché il riso rosso a parte che abbassa il colesterolo è molto utile anche per il colesterolo buono e quindi insomma ho dovuto di nuovo rivedere la mia dieta però questo è il minimo purtroppo per l'umidità che c'è a Roma ho un po' di mal di testa spesso che passano per fortuna nel giro di un'ora o due ore non mi durano tutto il giorno quindi comunque a volte sono acuti ma comunque durano poco quindi sopporto un poco perché comunque l'umidità è normale che ne risenta e a parte questo insomma sto bene mi faceva piacere le nervi aggiornati rispetto a queste cose di cui vi avevo reso partecipi un bacio e alla prossima